pace e competizione c'è un famoso libro guerra e pace ma gli antichi romani dicevano se vuoi la pace preparate la guerra quindi la pace che cos'è che cos'è un periodo tra una guerra e l'altra il tempo tra un bombardamento e l'altro o la pace è assenza di violenza di competizione la parola competizione viene presa un po così come se fosse una bella parola no dove c'è competizione non c'è pace nel campo del business degli affari della compravendita la chiamano concorrenza nel campo dello sport la chiamano gara facciamo una gara vediamo chi arriva prima poi sempre nello sport le olimpiadi che sono una guerra perché tutta una battaglia vengono chiamati le olimpiadi giochi come il calcio il calcio non è un gioco è un lavoro una professione dove alcuni calciatori che poi vengono chiamati giocatori ma professionisti sono professionisti guadagnano troppo troppo nel senso milioni di euro di dollari dipende cioè chi gioca con la palla con i piedi chi con la palla con le mani il basket la palla canestro ma guardiamo un po il linguaggio perché il linguaggio muove l'energia allora gara competizione scontro chi ha vinto chi ha perso dove ci sono vincitori e vinti non c'è pace se l'italia a una partita di calcio con la germania vuol dire contro la germania la germania una partita di calcio contro il brasile contro contro non incontro non è che si incontrano i rappresentanti di due popoli di due nazioni di stati si incontrano ci sono grandi vittorie grandi sconfitte e magari chi ha vinto prima la volta dopo non vince grande sconfitte grande sempre grande vittoria grande sconfitte quindi il linguaggio che muove l'energia è un linguaggio di guerra chi ha vinto chi ha perso chiaro il primo giorno tutti quelli che sono mandati dai rispettivi stati alle olimpiadi sembrano tutti contenti ma guarda l'ultimo giorno guarda man mano che danno le medaglie ai primi tre le facce di tutti quelli che sono entrati in gara in guerra in competizione nello scontro cosa fanno poi perché devono fare esame delle urine perché 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 usano sostanze che non vanno bene ma quelle nazioni non sto neanche a fare i nomi cercate ma sui giornali si si vedono che mandano ragazzi ragazze quindicenni minorenni all'olimpiadi e poi scoprono che queste ragazze quindicenni ragazzi prendono sostanze in italiano lo chiamano doping dop droghe sono drogati cioè danno delle sostanze tossiche a una quindicenne per fargli fare due o tre salti mortali mortali esso che se cade allora tutti a medaglia d'oro medaglia d'oro un'italiana nata a chiaravalle delle marche maria montessori spiegava che non bisogna insegnare ai bambini la competizione ma la collaborazione la creatività il lavoro di gruppo e lavoro individuale ha avuto più successo maria montessori in india ad esempio in india dove l'è passato molti anni in altri paesi del mondo che non in italia qui ci sono le scuole in competizioni le classi in competizioni e all'interno della stessa classe scolastica tu e di non a caso che le città ricche hanno due squadre di calcio che si scontrano quindi creare divisione divisione dividere dividere per controllare creare nemici che si scontrano poi violenti chiamati ultras ma meglio chiamarli i violenti i violenti della squadra nome si scontrano contro i violenti della squadra altro nome a cui le squadre danno biglietti omaggio perché devono coinvolgere negli insulti negli urli il pubblico quindi io sono profondamente contrario a gare competizioni vittorie sconfitte contro contro chi è che abbiamo contro il finale contro contro poi vedi tutti questi reali eliminatori eliminatori contro il vincitore guarda le facce degli sconfitti sono tutti stati mentali di scontro guerra vuol dire scontro dove chi va armato va per uccidere l'umanità gli esseri umani dovrebbero essere compassionevoli aiutare chi nasce handicappato chi ha dei problemi mentali o fisici crea una società compassionevole invece creano la società competitiva basata sulla concorrenza sulla gara sullo scontro chi produce dei farmaci non è un ente di beneficenza è un'azienda nazionale o multinazionale che vuole guadagnare guadagnare chi fabbrica le armi vuole guadagnare 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 io non è che sono contrario ai farmaci sono contrario all'uso speculativo dei farmaci guadagnare guadagnare e la guerra è uno scontro ma non c'è la pace in tempo di pace l'aggressività viene indirizzata negli stadi nelle gare e nelle olimpiadi quello che ha ricreato le olimpiadi moderne perché le olimpiadi moderne c'erano nell'antica grecia ci sono da poco più di cento anni diceva che l'importante quando ha ricreato lo spirito delle olimpiadi è partecipare no l'importante è vincere quindi come professione come lavoro ci sono degli esseri umani che praticano sport tutti i giorni 456 ora secondo lo sport si allenano hanno bisogno di essere mantenuti sanno che se vincono una medaglia d'oro prendono un bel po di soldi argento un po meno bronzo un po meno però guadagnano sono dei professionisti ma lo scopo dell'olimpiadi è la pace l'importante è partecipare no lo sport è guerra e scontro crea vincitori pochi e sconfitti tanti tanti sono degli sport dove vanno in tanti alle olimpiadi ma uno vince la medaglia d'oro uno vince la medaglia d'argento di bronzo e gli altri hanno perso tutto sono quelli che piangono si lamentano quelli che vengono scoperti con l'esame delle urine cioè ma come uno fa sport e fa l'esame delle urine perché trovano delle sostanze tossiche proibite e le hanno trovate anche i ragazzi e ragazze di 14 15 16 17 anni minorenni quindi c'è uno sfruttamento da parte dei governanti dei minori famose protezione dei minorenni non c'è nello sport non c'è non c'è è importante che capire no è importante capire cosa succede quindi non è tanto guerra e pace allora non siamo in guerra siamo in pace no c'è la guerra che uccide fisicamente è un periodo chiamato erroneamente pace che mantiene la rabbia lo scontro la competitività una squadra contro l'altra squadra tutti contro tutti vincerà solo uno quindi se vuoi la pace devi avere la pace nel tuo piatto quindi non puoi mettere animali morti dice ma non li ammazzati io no non puoi avere violenza mentale pensare male di qualcuno quindi ci vuole la pace mentale la pace fisica la pace sociale che tra l'altro questa pace spirito in pace mente in pace corpo in pace rinforza le difese immunitarie sistema immunitarie noi abbiamo un corpo che se lo lasci in pace si difende se lo aggredisci col tabacco con l'alcol con droghe con informazioni negative competitive tu con chi stai mi ricordo essendo nato nel 1946 da quando avevo 5 anni fino a quasi 20 anni quindi per 15 anni mi chiedevano tu per chi fa il tifo per nessuno tifo una malattia io sono sano voglio essere sano non voglio essere tifoso malato di tifo ma per quale squadra stai a cui come battuta concludo dicendo che a milano dei fine anni 50 del secolo scuoli ti anni 60 più o meno un po col 68 un pò sceso è ma poi ho parti per l'india ma che mi interessa stascia però sì ma tu sei del milan a milano no allora sei dell'interno insomma siccome io avevo una buona memoria sapevo tutti i giocatori dell'Inter perché mio fratello sapeva tutti a memoria poi faceva parte di un Inter club così parlando beh ma no so che nella Juventus gioca Sivori Omar Sivori John Charles allora sei della Juventus perché sai i nomi ma io mi informavo ma non ero tifoso non sono mai stato tifoso il tifo è una malattia mentale che però produce effetti di gente che va là a urlare, insultare a coltellarsi, sono stati morti e feriti gente che è andata là a attacchi di cuore durante la partita perché non reggevano la tensione qual è il messaggio se vuoi crea la pace nella tua mente nel tuo corpo e intorno a te e smetti di competere non cercare la vittoria perché la vittoria vuol dire la sconfietta di un altro la vera vittoria è la pace mentale è la pace mentale